Il carabiniere forestale Luca Pulsinelli è morto per un trauma cervicale, lo ha stabilito l'autopsia effettuata nel pomeriggio di ieri nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila dall'anatomo patologo Cristian Dovidio. Il risponso completo arriverà tra 90 giorni, ma le prime risultanze escludono un malore alla guida, ipotesi tenuta pure in piedi dagli inquirenti. Alla base dell'incidente potrebbe esserci un'imprudenza fatale. Al vaglio dei carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, la ricostruzione degli incidenti è avvenuto alle 20.30 di sabato 15 giugno, quando sulla strada di ritorno nella sua casa in San Donato, Val di Comino, in provincia di Frosinone, il militare, dove aver sorpassato un gruppo di ciclisti che procedevano sul lato destro della strada, avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua Suzuki 600, finendo contro un muretto del canale di Scolo nella zona casette di Opi. Troppo violento l'impatto con l'asfalto, tanto che a nulla sono valsi soccorsi, le sanitari del 118 di Pescasseroli, subito allertati dai ciclisti testimoni della tragedia, su disposizione della procura la motocicletta e starà posta sotto sequestro, mentre nei prossimi giorni si provvederà ad assegnare l'incarico per una perizia cinematica per verificare le condizioni del manto stradale, ispezionare il mezzo, accertare pure la velocità.